Per quanto riguarda il contesto pandemico, è un contesto in netto miglioramento, lo vedete anche dai numeri non solo locali, ma anche dai numeri nazionali e quindi regionali. Quindi abbiamo una curva in netta discesa, questo per noi vuol dire sicuramente che l'incidenza è passata da migliaia di casi su 100 mila residenti a 326 casi su 100 mila residenti, quindi è decisamente migliorata. Sembra alta, ma parlavamo di migliaia di casi, quindi è assolutamente migliorata e questo lo vediamo anche nell'impatto che abbiamo sulle strutture sia territoriali, parlo della Cracovid piuttosto che dell'albergo sanitario, che hanno un numero molto limitato di persone, due nell'albergo sanitario, 12 persone in quella che è la Cracovid, ma che spesso diventano un contesto di ricovero anche d'urgenza in situazioni molto particolari, nel caso in cui dovesse chiudere sappiamo dove collocare assolutamente le persone. Per quanto riguarda anche le USCA, hanno quindi ridotto in modo importante la loro attività domiciliare legata al Covid, considerate, se vi ricordate, eravamo intorno ai mille pazienti seguiti a domicilio, oggi siamo a 94 persone, quindi sta sempre scendendo e questo è vero anche per il contesto ospedaliero, dove abbiamo una ripresa, direi, importante di circa l'85-90% delle attività, quindi le aree destinate al ricovero ordinario sono veramente piccoline e si stanno sempre di più contraendo. In questo momento noi abbiamo 3.226 persone positive, di cui solamente il 6% sono sintomatici, che non vuol dire che abbiano necessità di ricovero, i numeri ne parlano chiaro, il resto sono tutti soggetti assolutamente asintomatici, quindi è una situazione, diciamo così compatibile con quello che sta accadendo nel resto del nostro paese. Chiaramente è una situazione, questo mi preme sottolinearlo, che non deve vedere l'abbandono, è di certe buone regole, di buone prassi, che ormai sono diventate compagne nell'arco di questi due anni, cioè l'uso come raccomandato della mascherina, e quindi del dispositivo di protezione, quale è questo DP, sia nelle zone affollate, anche all'esterno quindi, laddove ci sono affollamenti sicuramente in un contesto chiuso o comunque con Green Pass Super, che viene appunto valutato, e la buona ventilazione degli ambienti, che sono delle buone regole da mantenere, a prescindere insomma da lo stato di emergenza pandemico.